I permessi di musica non sono i permessi da ballo e viceversa. Ci sono regole, permessi e costi differenti. Su questa base nasce la discussione che vede interessate varie attività del pesarese, da Baia Flaminia a Sottomonte, dove la Movida si risveglia con l'estate. Se da un lato il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ne fa una questione di numeri, dall'altro Davide Paso, direttore confesarcenti Pesaro, ne fa invece una questione di regole e rispetto. Una piccola precisazione, non è un attacco nei confronti del sindaco, né tantomeno nei confronti degli assessori Mengucci e Frenquellucci, ma è una precisazione in base a una frase che è stata detta, che dà ampia interpretazione, dà l'opportunità ai furbi di credersi ancora ulteriormente più furbi. Ci sono attività che svolgono, tra virgolette, illecitamente un tipo di attività, che è quella dell'attività del ballo. Per fare un'attività del ballo bisogna attenersi alla legge del testo unico del locale di pubblica sicurezza, che dà delle regolamentazioni molto rigide e molto costose. Qualcuno cerca di evitare questi regolamenti, evitando anche determinati pagamenti, facendo una concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi che invece si attengono perissequamente a quelle che sono le regole del TULPS. Questo è il problema. Non si può pensare di dire, valuteremo in base alla gente che c'è, che balla, se è un'attività di ballo o meno. Se faccio un compleanno e due persone ballano con la musica che c'è sotto, questo nessuno, non è un locale da ballo. Ma quando mettiamo un DJ set oppure pubblicizziamo sui social che c'è una festa all'interno di un locale, è quello. Il locale deve essere attenzionato. L'unica cosa che noi chiediamo alle forze dell'ordine è di essere precise e puntuali nel momento in cui ci sono queste attività, tra virgolette, noi come associazione è anni che cerchiamo di far rispettare le regole. Vogliamo vivere nella totale anarchia? Facciamolo. Nessuno si lamenta e ognuno si assume le responsabilità di ciò che fa nella propria attività. Ma così in Italia non è. Forse ci vorrebbero meno lacci e lacciuoli, questo è vero, meno restringimenti per certe cose, questo è vero. Però la prima cosa è il rispetto di chi ti è vicino. Ci sono locali a Pesaro che hanno fatto per mesi un'attività così, così, così. Evitiamoli. Io cercherei, non voglio la città cimitero, il Pesaro da RSA per gli anziani, però ci deve essere un giusto rispetto di chi ti è vicino. Regolamenti da rispettare, dice il PASO, non solo per la giustizia nei confronti altrui, ma anche di sicurezza. Noi abbiamo organizzato per la FIMBA una festa in Balea Flamina, a Campo di Marte, tra il piano sicurezza, tra gli addetti alla sicurezza o altro, i costi sono esorbitanti. E' vero, ma lo facciamo, abbiamo rispettato le regole, bisogna farlo e non sopporto più la gente che dice vabbè proviamo, vediamo come va, perché se va male, quella volta lì, ciò che non hai speso in un'assicurazione o in un piano sicurezza ti si ritorce pesantemente contro e se succede qualcosa di brutto le conseguenze sono dannosissime per un'attività e per la persona e per l'imprenditore.